buongiorno ragazzi allora eravamo arrivati qua e siamo ancora qua intanto in nottata penso di aver cambiato tutto ha cambiato tutto quello che era il concetto del mobile rispetto a quello che avevo in mente di fare perché ho avuto un'idea più figa o meglio la forma per quanto avete visto voi finora rimane alla medesima però rispetto a quanto avevo annunciato in live cambia totalmente la questione è un po presto per dirvi la nuova idea e anche la vecchia quindi cosa è cambiato perché non sono ancora pronto non ho ancora definito tutto quando siamo a un punto un po più avanzato vi spiego cosa avevo in mente di fare e cosa ho deciso invece di fare e perché non è il momento adesso concitiamoci sulla tecnica perché c'è molta tecnica in questo lavoro qua e come avete capito non ho idea di che cazzo io stia facendo quello che devo affrontare oggi l'obiettivo di oggi è produrre la vasca per mettere a bagno i legni piallare mettere a bagno i legni e tagliate a misura così rimangono lì un po di giorni mentre io finisco il resto finire il tavolo di tiraggio con tutto il discorso tecnico che c'è dietro che vi spiego vi faccio vedere le problematiche e le possibili soluzioni perché di questo ne discutiamo assieme e stasera alle 6 a peri live sempre che io riesco a recuperare la birra perché ho finito la birra una peri live tranquillo giusto per farsi compagnia niente di tecnico niente di test anzi magari no facciamo una roba magari nella peri live di stasera sì nella peri live di stasera vi dico qual è l'idea e qual è la forma finale del mobile perché tanto se oggi riesco a fare tutto quello che devo fare avrò indubbiamente le idee chiare quindi stasera nella peri live vi spiego qual è la forma finale del mobile perché è cambiata e perché cosa voglio ottenere ora prima di incominciare rispondo a un paio di domande i più svegli di voi ieri in realtà quindi due o tre perché quelli sono gli svegli hanno notato che non ho rastremato come invece avevo fatto da disegno la forma e mi hanno chiesto se mi sono dimenticato o come mai ragazzi io non dimentico un cazzo ho fatto una scelta di questo genere vi spiego allora di solito si rastrema di più la forma con cui calcare per il semplice motivo che anche quando viene messo in forma dopo giorni un po il legno rilascia e riapre la curva però siccome sono alle prime prove ho preferito non farlo perché non ho idea di quanto devo stringere la curva e siccome il mio è un semicerchio chiuso cioè è un semicerchio non libero ma tenuto assieme da questa da quest'altro tramontante qua che lo stringe e lo tiene in forma se dovessi se dovesse allargarsi una volta aperta non c'è problema perché il listello la terrebbe comunque incollata in posizione ma soprattutto perché come dicevo essendo le prime prove io non ho idea della quanto rilasci quindi quanto io debba stringere la curva ed essendo prove preferisco prima provare ed è per questo che ho tenuto i fori di fissaggio delle clamp più in dentro perché se dovessi poi vedere che devo rastremare e tagliar via una fetta taglio via una fetta senza problemi questa è la motivazione come continuo a dirvi è una roba molto tecnica è una roba di cui si hanno pochissime informazioni pochissime tutorial praticamente pari a zero quindi andando avanti per tentativi preferisco fare le cose piano piano safe ma ora iniziamo allora prima cosa arrivare ad avere listelli a misura e piallati a spessore di quello che voglio che è un 20 per 28 circa si 20 per 28 i miei listelli sono già piallati per cui pialliamo perché si sa che a me mi piace la pialla mi piace la pialla sono un po' imbarcati però c'è frega un cazzo li devo imbarcare ancora di più quindi va benissimo così e non mi basterà mai il legno per finire tutto il lavoro se lo faccio in una nuova modalità che ho detto ordinerò altri listelli cosa cosa si può fare avevo presi da briccoli il mio store per fare il fare la sala server ne prenderò altri perché tanto hanno la stessa misura ora c'è da fare la vasca dicevo ne ho tagliati 8 però sempre con l'idea delle prove io ne metterò in ammollo solo 4 perché pensavo di fare prove a giorni scaglionati anche se bisogna capire come funziona quanto poi deve rimanere in forma quindi se io ne metto adesso 8 e poi scopro che bastano due giorni per per stare a bagno e più di due magari si sfibrano non va bene o è troppo non lo so perché non so niente non la so io il tappo da culo anche che lo userò sul fondo sopra invece lo lascerò aperto la guarnizione l'ammorbidente perché detersivi non mi bastano mai l'unica cosa che dovrò fare a parte segnarmi la mezzeria come molti di voi mi hanno ricordato giustamente ripeto che la mezzeria mi serve per poi posizionarlo nel modo giusto la mezzeria come che si pieghi uguale destra sinistra anche qua sull'ammorbidente ho letto vari parti ho sentito vari video americani dove mettono dentro l'ammorbidente non specificano dosi non parlano di quantità io penso che contenendo 30 litri il tubo non lo riempirò tutto perché penso che lo riempirò 20 25 io direi di fare un tappino di ammorbidente ogni 10 litri tanto io per riempirlo uso la mia tanicozza da 10 e quindi mi è più facile misurare è tutto un esperimento si fa qualcuno quando ne parlavo l'altro giorno mi ha consigliato di piazzarlo in lab e poi mettere un rubinetto in basso nel tubo per svuotarlo allora si lo piazzassi in lab a parte pesare 30 kg perché sono 30 litri e mettessi il rubinetto nella parte bassa poi mi devi spiegare come cazzo lo svuoto perché se è nella parte bassa per terra cosa ci metto sotto quindi siccome la fortuna di avere uno spazio esterno direi che a scaso d'equivoce che si aprisse o cosa lo metto direttamente fuori di qua sempre che io e che schifo di ragnatele sempre che io trovi questa chiave non bisogna averla neanche mai aperta una porta direi che posso benissimo metterlo fuori qua e magari lo posso mettere anche un po inclinato così dovrebbe essere un po più comodo adesso vedo di fissarlo in qualche modo e poi li trate li trate li trate li trate d'acqua ok alla fine l'ho messo qua perché non è proprio dritto dritto ma non me ne frega assolutamente niente almeno è abbrancato alla gronda non si muove e poi se lo devo svuotare lo scarico giù e lì ho direttamente quella ed era molto meglio che abbrancarlo lì ora dentro gli stelli e poi allora metto prima dentro gli stelli sì così li lascio già dentro mentre verso l'acqua e poi tani cozza da 10 litri un misurino ed ammorbidente ogni 10 litri facciamo così fino a riempire ci vorrà una vita e mezza l'ho messo lì anche perché c'è la finestra del bagno quindi un domani che lo devo rifare non voglio farlo con la tanica compro il tubo direttamente dal rubinetto del bagno riempio a sto giro non ce l'ho siete inutili siete inutili inutili non mi ricordate niente stavo dimenticando una roba fondamentale prima di mettere in ammollo gli stelli due due che l'ho messo non trovo più aspetta abbiamo detto no che facciamo metodo scientifico misuriamo l'umidità del legno prima di essere messo dentro quando l'ho tirato fuori dall'ammollo e dopo averlo tirato fuori dal vapore misuratore d'umidità a o b il faggio è sulla b ok b e poi via vediamo 6,5 6,4 se più o meno è tutto uguale vediamo se riesco così è meglio andrebbe conficcata un po le puntine ma è molto molto duro se qualcuno fosse interessato invece io che sono mogano ho un'umidità circa del 17,3 per cento non mi idrato molto dai riempiamo la vasca alla fine ci sono state quattro taniche come avete visto il legno ovviamente galleggiava quindi ho e sopra un'altra donuts di ferro così c'ho anche il buco per rabboccare proprio fino a livello e così come dice qualcuno non entrano gli insetti come se me ne fregasse qualcosa degli insetti ad ogni modo qua è e qua rimane per un due o tre giorni anche la tanica la lascio direttamente fuori ora perfetto chiudo qua che si chiude in automatico non ho le chiavi fuori no e vediamo di incastrare il tavolo di tensionamento vi spiego qual è il problema ragazzi inutile che continuate a farmi domande su sto lavoro tecniche uno di voi mi ha chiesto ma secondo te basta l'ammollo a renderli più morbidi la risposta che dovete immaginare è quella del macellare toscano se avete visto il video sapete di cosa parlo io non lo so non ho più pari di idea sto provando non posso fare altro che che provare una cosa sicuro profumati saranno profumati ammorbiditi sfibrati non lo so al di là delle questioni sfibratura e polaretti giganti dovuti al gelo veniamo a questo allora la questione questa cos'è vediamo se riesco a spiegarmi perché ce l'ho benissimo in testa ma devo riuscire a trasferirla a voi prima di tutto in testa serve un blocchetto e un cuneo serve un bocchetto e un cuneo perché è il primo incastro che si deve fare allora quando viene appoggiato il listello sulla sua mezzeria la prima cosa che bisogna fare è andare a battere dentro un cuneo non è che rimanga perfettamente in quella posizione si può mettere anche un morsetto ma è meglio dare subito due battute col cuneo per rapidità e non stare a stringere quel pezzo quindi prima cosa c'è l'aggiungere quello con tanto di cuneo un pezzo alla volta iniziamo a fare questo ed ecco qua il cuneo funge esattamente da cuneo praticamente si mette dentro il listello qua deve passare la fascia metallica che è quella che serve per stringere che è il prossimo pezzo che vado a fare e poi si batte dentro il cuneo in modo che questo qua rimanga fisso poi vabbè si aggiungono anche le clamp ma quello lì dopo quindi il cuneo è da tenere via come oro tra l'altro è in faggio anche il cuneo la fascia metallica allora la fascia metallica deve essere commisurata al pezzo che bisogna stringere quindi 148 più lo spazio di questi blocchetti qua che vengono messi alla fine e poi su questi blocchetti e i tensionamenti devo vala la pena spiegare una roba in modo che il listello quando la fascia è se riesco una mano sola quando la fascia è stesa prima che venga curvata vada a incastrarsi tra i due blocchetti di legno che ci sono collegati alla fascia e non possa scappare via quindi devo sbobinare questa che spero non mi salti in faccia e tagliarne 148 più 10 più 10 facciamo 168 bene ora che sono riuscito a tagliare la fascia senza farmela saltare in faccia perché come avete visto era abbobinata e quindi non potete saltare in faccia i blocchetti qua questi qua questi blocchetti non devono essere nemmeno spessi devono essere alti come la fascia e spessi più del pezzo che va morsettato quindi il mio pezzo è due questi morsetti vanno fatti almeno tre quindi 5 per 3 facile allora striscia fatta vi faccio vedere un po come avrei voluto far vedere passaggio per passaggio ma ve lo spiego tutto alla fine perché sennò non finivo più di fare le storie e soprattutto non finivo più di fare il lavoro ora ovviamente come vedete è lunga è lasca ma dovete considerare che ci va in mezzo l'altro spessore per cui il diametro cambia andiamo a parte essere idonea anche per togliere l'acqua dal pelo dei cavalli chi ha fatto equitazione sa cosa intendo a parentesi io non ho fatto equitazione vi faccio vedere come fate i blocchetti che sono spessi un po più del mio listello di legno che devo mettere dentro fissata con due viti e bulloni e in mezzo c'è il foro che serve passante a far passare il tirante i due tiranti uno di qua e uno di là ho aggiunto anche un piccolo tubicino di metallo in modo tale che il tirante di metallo non strappi il legno e quindi non rischi di rilasciare ora manca tutta la parte dei tiranti e del sapete proprio cazzo che non mi viene il nome di sta roba vi spiego qual è il problema con sta roba la chiameremo sta roba vi spiego qual è il problema allora perché sono due i problemi uno di ordine fisico e l'altro di ordine di comodità prendo tutti i pezzi e vi faccio vedere allora intanto mi avete alacremente detto che sta roba che io continuerò a chiamare sta roba si chiama argano o verricello allora due sono i problemi uno se io mettessi sta roba qua col piffero che la giro quindi questa roba deve stare per forza esterna il che sarebbe una rottura di palle però questo risolve anche l'altro problema quello di ordine fisico il problema di ordine fisico è questo vedete che la corda del verricello è tot tipo a 3 centimetri mentre i miei fori sono più bassi per evitare che quando io tiro quello questo venga alzato guardate che faccio così ok per evitare che quello lì quando tira questo venga alzato e rimanga più possibile a terra la corda dovrebbe essere a livello del piano o almeno o a livello dei fori o addirittura più bassa in modo tale che lo tiri verso il basso spostando quello all'esterno risolvo anche questo problema ora però si tratta di capire se io questo lo porto fuori dove cazzo lo porto? nel senso devo averlo più basso tipo qua che la corda sia più bassa possibile e esterno per poter girare quindi come una struttura dritta che scarichi a terra ma sia anche abbrancata quella e che non fletta così quindi una sorta di robo paranco tutto costruito che tenga tutto solito perché lui svilupperà una grande forza meccanica e girando non si deve né spezzare né piegare né muovere quindi ci vorrebbe una roba dritta così che viene fuori con appoggiato sopra largano non è che da girare anzi con la sinistra girare la manovella in libertà sul fianco ma che non fletta per così e che lo tenga tutto più basso e che sia abbrancato al tavolo bel cazzo da cagare cosa vi ho sempre detto però? che io sono uno con più culo che anima perché? vi ricordate che avevo due strutture del tavolo e io ne ho presa una? per casualità senza pensarci ho preso quella senza il traverso centrale quindi adesso ho quella col traverso centrale che è perfetta per il lavoro che sto facendo se la metto in orizzontale contro l'altro piano non so se è chiaro ma vi faccio vedere ho appena finito di spiegare il problema del verricello del cosa aggiungere tutto ho fatto la storia con più culo che anima non faccio il tempo a far vedere cose che mi riempite di soluzioni alcune veramente strampalate per costruire roba montare fare roba serve un cazzo guardate qua io non devo fare nient'altro che prendere l'altra struttura del tavolo agganciarla a quella con dei morsetti come ho agganciato quell'altra a là questo non si muove è tutto solido attaccare il verricello qua facendo dei fori o anche con una contropiasta e improvvisamente come se non bastasse il cavo mi va anche al livello giusto che deve arrivarmi e posso decidere quanto metterlo distante e ho anche tutto lo spazio per girare la mano bella ok non sono vicinissimo lì per martellare stando qua però voi avete preso troppo la lettera a quello che vi ho detto l'altro giorno perché non è così immediato tiri si tensiona un po' lo rimetti in coso giri lo rimetti in coso senza contare che se io lo metto un po' più avanti di così io posso anche stare qua martellare girare martellare e girare che è il nuovo ballo dell'estate qualcuno mi ha proposto invece di metterla addirittura qua per avere la libertà di girare con una curva curva a 90 gradi lì anche ci fosse una rotella qualcosa non me lo fate dire non si può mettere lì qualcuno invece mi ha proposto di metterlo dall'altra parte facendo passare il cavo sotto mettendo una rotella qua e facendolo tirare allora così potrebbe anche funzionare virtualmente potrebbe essere più comodo questo da martellare dato che sono lì ma io non voglio aggiungere la variabile di una rotella un altro pezzo di leva qua che poi quando rilascio devo stare attenti che si incastri giusto si è andata a vedere come sono fatti i barbari questi cosi qua cioè come li fanno ho visto un video addirittura di chi il verricello ce l'aveva su un basamento stand alone che allontanava e c'era poi il collega ciccione con i piedi sul basamento che teneva fermo e il basamento faceva così non stiamo parlando di neuroscienza ragazzi c'è della fisica c'è della meccanica ma non è neuroscienza quindi posto così devo solo fissare il verricello mai un progetto ha ricevuto tanti commenti ragazzi mai tanti messaggi trovati tanti commenti tante curiosità e anche tante stronzate diciamoci la verità allora fatto fissata vi faccio vedere un po' come ma devo girare la camera perché c'è ancora il bug di istra allora adesso questa è bella è tutto inamovibile come Batman mi sembra fosse Batman comunque adesso questa qua c'è un casino di cavi di roba perché te la vendono arrotolata come satana e la devo sistemare ora quello che serve sono gli altri tiranti quindi blocchetti questo e i tiranti che devono essere lunghi uguali e andare concentrici lì a quello lì poi sarà una figatina da aggiungere che è proprio il plus allora ho fatto i due tiranti su cui c'è da fare una spiegazione perché ho visto che qualcosa non è chiaro molti mi dite farli di una lunghezza farli di un'altra ragazzi non è una questione di decisione bisogna un po' vedere in funzione della Dima perché vi spiego allora io inanzitutto adesso c'è questa vite che mi è servita solamente perché bloccando la fascia nella stessa posizione la vite mi dà la possibilità tirando contro la vite e tensionando il tirante di averli più o meno lunghi uguali poi non è che devono essere uguali al decimo di millimetro devono essere uguali nel senso che convergano il più possibile non facciano slittare la fascia ma c'è ovviamente un margine di scarto poi la misura dei tiranti i tiranti vanno fatti in modo che quando tutto sia tensionato la giunta lì col gancio non entri dentro quindi rimanga più o meno qua ok cioè non entri dentro lì ma devono essere anche lunghi abbastanza perché adesso le sgancio così vi faccio vedere qual è il discorso devono essere anche lunghi abbastanza perché quando voi avete il listello di legno lungo questo sia possibile agganciarlo al via recello portato avanti perché sennò col cazzo che lo aggiungete perché l'ordine si tira fuori il listello dalla 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 steam box lo si mette dentro gli si batte il cuneo si va da un lato lo si inizia a piegare si mette provvisoriamente una clamp si collega questo al verricello si piega l'altra parte si mette provvisoriamente una clamp si collega al verricello si sganciano le clamp si inizia a tirare il verricello martellando e mettendo le clamp questo è l'ordine in cui va fatto tutto il tutto abbastanza velocemente per cui i tiranti non è che possano avere lunghezza infinita o lunghezza ridotta perché devono coprire sia quando sono stesi che quando sono col pezzo dritto perché voi lì mettete il pezzo dritto all'inizio quindi non possono essere troppo corti se no dovete piegare tantissimo e da qui quello che dico non è detto che io abbia fatto il lavoro giusto e i tiranti giusti io ho preso una misura spanne se avete visto il timelapse ho cercato di capire più o meno quanto riesco a curvarlo a mano prima ma è tutta un'intuizione magari poi vanno rifatti vanno rifatti più lunghi magari va spostato più indietro il verricello un po' di cose intanto uno di voi mi scrive ma non eri più comodo a usare la fascia col cricchetto cioè usare la fascia quelle arancioni tipiche da camion no questa è una cosa che avevo generato in live serve una fascia di lamiera questa non so dire quanto è spessa ma non è comunque sottile perché la lamiera deve abbracciare tutte le fibre del legno e tenerle compatte in modo che si aprano si dilatino ma non sgranino fuori quindi la fascia col cricchetto di tela per quanto sia resistente sicuramente non si spezza non fa questo lavoro perché comunque è morbida non è che evita che le fibre strappino la fascia invece sì qualcuno invece ha posto il problema che avrebbe messo un legno davanti o un legno dietro e non usato la fascia perché la lamiera potrebbe strapparsi no non sono l'uferrigno e la lamiera non riuscirò a strapparla e proprio perché per l'assemblaggio che vi ho detto cioè si mette il cuneo si piega leggermente a mano si mette una cosa si collega poi si piega un po' l'altro poi si collega e dopo si via ricella e per questo che ho abbrancato tutto al piano della troncatrice che non può spostarsi perché è fissato a terra e infatti vi garantisco che questa roba non la muovi neanche a pagare questo non si può alzare non si muove niente tutto deve essere fisso perché come vi dicevo prima c'è chi lo fa un po' più barbone ma io non ho un collega ciccione da mettere sul basamento ora però voglio anche se non ho dentro il pezzo e quindi la mia fascia non è della misura giusta collegare e tensionare bene la cosa col verricello perché vi voglio far vedere una cosa che potrebbe essere un possibile problema e quindi con la possibile soluzione che non potrò attuare oggi ve lo dico subito ecco qua allora ho tensionato il tutto è veramente veramente teso per farvi vedere una cosa vedete che gioco fa qua stringi qua è vero che adesso non è giusto perché ci dovrebbe essere il pezzo in mezzo però qua c'è dell'aria e qua c'è dell'aria vedete per conviente questa forma che finisce dritta e non finisce a rastremazione tirando verso il centro facendo un fulcro viene piegata così questo per me potrebbe non essere un gran problema anche perché la mia dima è abbondante a me in realtà serve tipo fino a qua il pezzo per cui viene pressato bene bene lo stesso senza contare poi che comunque viene abbrancato anche così io pensavo che sarebbe intelligente mettere e non ce l'ho qua delle pulegge parallele a quella in linea con quella una qua anche solamente qua e una là in realtà volevo mettere degli occhielli al posto delle pulegge ma siccome non ho degli occhielli nelle pulegge tanto vale che domani mi compi le pulegge tanto non lo devo usare subito questo dovrebbe fare in modo che questa venga dritta venga quindi prima tirata giù e dopo arcata qua quindi io abbia il parallelismo perfetto qua per quanto siano decimi di millimetro e per quanto poi ci andranno comunque tutte le sue clamp ad avere un lavoro più preciso e più perfetto quindi quell'integrazione lì dovrò farla successiva perché oggi non ce l'ho ora vediamo di smollare sta roba senza farselo partire in faccia senza perdere un dito a me inquietano ste robe ci vogliono due mani e quindi niente ragazzi questo è quanto questo è pronto manca solamente la piccola aggiunta delle pulegge che appena un attimo vado a prendere ma non non è urgente perché tanto abbiamo il legno a bagno e poi sarà da rascaldarle tutto e niente speriamo c'è poco da dire speriamo funzioni questo è quello che potevo fare fino ad oggi sono soddisfatto e sono abbastanza confidente di aver fatto tutti i ragionamenti giusti intanto mi state facendo un sacco di domande tipo se i blocchetti alla fine della fascia lo fate a vena traversa o a vena uguale a quella del coso perché potrebbero strapparsi una cioè onanismi in libertà non quelli nel dettaglio non sono sottosposti a nessuno sforzo per il semplice motivo che la il il cavo passa anche la fascetta c'è dentro ho addirittura messo dentro il tondino di metallo per evitare che faccia ancora più sforzo quindi su quello sono super safe c'è poco a naturalizzare ragazzi c'è da provare o si segue un progetto e non ce ne sono perché varia di legno in legno varia di forma in forma o si prova e qui stiamo provando adesso sono le 5 piscio i cani vado a prendermi un paio di belle birre ghiacciate e ci vediamo alle 6 sul canale Twitch a Perilive ridiamo scherziamo ci rilassiamo se volete vi spiego qual è la nuova forma del mobile per chi non l'avesse sentita prima per chi l'avesse sentita prima con la vecchia o la forma del mobile punto per chi ancora non l'ha sentita e domani invece no domani non ve lo dico domani surprise alle 6 qua anzi no alle 6 su Twitch a Perilive a tutti gli altri e ci vediamo dopo la live e mentre tonnellate di voi mi dicono che è pericoloso il cavo perché potrebbe spezzarsi un cavo da 4 mm di acciaio attaccato a un vericello manuale perché forse credono che io sia Lu Ferrigno che non la fighetta che sono vi aspetto in live tra 4 minuti se volete ne discutiamo lì così almeno l'insulto è in diretta allora ragazzi doveva essere una live veloce di aperitivo mezz'oretta si è fatto 4 chiacchiere è diventata praticamente un pranzo di Natale 2 ore di live abbiamo parlato di tutto sia della forma del mobile che dei prossimi passi consigli ne sono nati a manetta ma soprattutto c'è stata una disquisizione fantastica e enorme sulla qualità degli attrezzi Parkside Festool Milwaukee DeWalt tutti li abbiamo tirati in ballo tutti molto molto ficcante vi lascio il link per chi volesse rivedere la live che se l'è persa se non me ne frega niente non cliccate il link che è facile ci vediamo domani Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.